Cari amici, oggi ho una sorpresa speciale per voi, un'anteprima esclusiva di Terra Amara, un avvincente racconto che vi terrà incollati allo schermo con il fiato sospeso. Vi ricordate che avevamo lasciato una storia in sospeso? Nel nostro ultimo video abbiamo assistito all'atto disperato di Mujgan, che ha rapito Kerem, se non l'avete ancora visto, vi consiglio di farlo per comprendere appieno la trama che sto per raccontarvi. Ci eravamo lasciati con Zuleya in tenta ad inseguire Mujgan, mentre il pianto del piccolo Kerem risuonava nell'aria. In un turbine di emozioni, Mujgan raggiunge precipitosamente il fiume, urlando a Zuleya di lasciarla in pace, poiché non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo piccolo. Zuleya continua a inseguirla, implorandola di fermarsi, ma Mujgan, determinata, tenta di attraversare il fiume, finendo per cadere insieme al piccolo. Sotto shock, Zuleya osserva la scena e si precipita ad aiutarla. La tensione è palpabile mentre l'acqua impetuosa minaccia di portarli via. Mujgan si sforza di rialzarsi per afferrare il bambino, ma la corrente lo trascina via insieme alla culla. Zuleya si getta in acqua mentre Mujgan lotta per nuotare verso il suo piccolo. La scena si fa sempre più intensa quando Zuleya raggiunge Kerem, riuscendo a catturarlo appena prima che cada in una cascata. Nel frattempo, vediamo Mujgan in balia della corrente, rischiando di affogare. Una volta salvato il piccolo e messo al sicuro sulla riva, Zuleya si affretta ad aiutare Mujgan. Con uno sforzo immenso, entrambe riescono a uscire dall'acqua. Mujgan, terrorizzata, si precipita a controllare suo figlio, mentre le lacrime rigano il suo viso per la paura di aver quasi perso il suo piccolo. Nel frattempo, un uomo, assoldato da Demir per sorvegliare Zuleya, le osserva da lontano e si affretta ad avvisare Demir all'esterno dell'azienda Yaman. Demir, vedendo l'uomo sconvolto, gli chiede se Zuleya ha incontrato Yilmaz. L'uomo risponde negativamente e rivela che Zuleya si è recata da Mujgan. Demir sembra confuso dall'informazione appena appresa. L'uomo spiega quindi di aver seguito Zuleya fino alla residenza di Fecheli e di aver scoperto che, anziché incontrare Yilmaz, Zuleya ha portato con sé un bimbo per farlo stare con Mujgan per un po' di tempo. Mujgan ha rifiutato di restituirlo e ha tentato di fuggire con il bambino, gettandosi nel fiume, rischiando entrambi la vita. Fortunatamente, Zuleya ha compiuto un atto eroico e li ha salvati entrambi. Ora, la domanda che sorge spontanea è, dove si trovano Zuleya e Mujgan in questo momento? Nel frattempo, assistiamo a Yilmaz che irrompe con impeto nella casa di Beice. Entra con foga, accusando la donna di essere coinvolta in qualche modo con il gesto di Mujgan. Le sue parole riecheggiano nella stanza quando grida, sono esausto di te e delle tue dannate trame. Beice, chiaramente sorpresa, cerca di negare le accuse di Yilmaz, affermando di non sapere di cosa stia parlando. Ma lui insiste, chiedendole se ha suggerito a Mujgan di implorare Zuleya affinché le cedesse Kerem, così da poterlo rapire. La zia, con tono sincero, ribatte di non essere a conoscenza di nulla di simile. Tuttavia, Yilmaz le confida che Mujgan ha manipolato Zuleya per indurla a consegnarle Kerem. Nonostante le sue rassicurazioni di innocenza, Yilmaz non le crede. Esprime la sua stanchezza riguardo ai loschi piani di Beice e di Mujgan, affermando di sapere che Mujgan non la abbandonerebbe mai e che, prima o poi, si presenterà lì con il bambino. E quando quel momento arriverà, entrambe si pentiranno di averlo mai incontrato. Mujgan e Zuleya fanno il loro ingresso nella dimora di Beice, portando con sé il piccolo. Mentre Mujgan invita Zuleya ad entrare per asciugarsi, esprime gratitudine per averli salvati. Zuleya, tuttavia, risponde che non merita alcun ringraziamento da parte sua e che non le perdonerà di averla manipolata. Accusa Mujgan di aver approfittato della sua sofferenza per la separazione dal figlio, cercando di fuggire con il bambino senza pensare alle conseguenze, mettendo a rischio persino la sua vita. Nel frattempo, Yilmaz ascolta tutta la conversazione e si unisce alle due. Zuleya lo fissa con sorpresa, mentre Mujgan si trova imbarazzata dalla situazione. Beice tiene saldamente il bambino tra le braccia. Vedendo che sono bagnate, Yilmaz chiede loro cosa sia successo e perché si trovino in quello stato. Nessuno dei presenti risponde e la frustrazione di Yilmaz cresce. Egli esige una risposta. Beice, ancora abbracciando il bambino, si allontana in silenzio. Yilmaz, indignato, comincia a alzare la voce, desideroso di conoscere la verità. Zuleya confida a Yilmaz che quel mattino Mujgan è andata da lei per manipolarla, lamentandosi del fatto che lui non le permettesse più di vedere il bambino. Supplicando aiuto, Mujgan ha sfruttato la sua disperazione e Zuleya, ingenuamente, ha accettato di aiutarla. Con profondo rimpianto, Zuleya si scusa per aver agito di nascosto, spiegando che Mujgan le aveva promesso che le avrebbe restituito il bimbo. Ma la dottoressa l'ha tradita, non mantenendo la parola data. Si sono avventurati verso il fiume, dove Mujgan è inciampata con il bambino e, per pura fortuna, Zuleya è riuscita a salvarlo dalla cascata. E anche Mujgan sostiene che è solo grazie a Zuleya che sono salvi. Preso dall'ira, Yilmaz afferra Mujgan con violenza, rimproverandola per la sua imprudenza che ha quasi costato la vita al loro bambino. Con una voce piena di rabbia, le dice che non merita di rimanere in vita, tirando fuori la pistola, la punta verso di lei. Zuleya, terrorizzata, gli chiede cosa stia facendo, mentre Yilmaz la implora di farsi da parte. Nel frattempo, Demir arriva alla dimora di Beice, ma rimane indisparte, ascoltando ogni parola della conversazione che si svolge dietro la porta. La sua presenza passa inosservata, mentre i segreti si rivelano e la tensione aumenta. Zuleya supplica Yilmaz di fermarsi, mentre Mujgan lo esorta a spararle. Zuleya, confusa e spaventata, gli chiede cosa stia facendo, mentre Mujgan, ormai esausta, dichiara di essere stanca e di non voler più vivere. Con un grido di disperazione, supplica Yilmaz di premere il grilletto, mentre Zuleya cerca disperatamente di trattenerla, implorando Yilmaz di non farle del male. Le lacrime scorrono abbondanti sul viso di Mujgan. Inizia un lungo e appassionato discorso di Zuleya, che minaccia Yilmaz dicendogli che se gli toglie la vita a Mujgan, non avrà più la possibilità di rivederla. Gli fa presente che non si è innamorata di questa sua versione violenta e rancorosa. Ribadisce che Mujgan è solo una vittima del loro amore e che la colpa di tutto ciò ricade su entrambi. Entrambi sono responsabili di questa tragica situazione. Questo è il suo ultimo appello. Zuleya afferma con fermezza che se Yilmaz arrecherà del male a Mujgan, non lo perdonerà mai. Nel frattempo, dietro la porta, Demir ascolta attentamente la confessione di Zuleya. Uno sguardo malinconico si dipinge sul suo volto, facendo emergere l'amara realtà che sua moglie è ancora innamorata di Yilmaz. La tensione e il mistero si fondono mentre i segreti vengono svelati gradualmente. Yilmaz si avvicina per prendere suo figlio, mentre Mujgan lo guarda terrorizzata, cercando disperatamente di impedirgli di portarlo via nuovamente. Yilmaz, con voce spietata, le dice che non avrà pietà per lei e che non è come Zuleya e quindi non le permetterà di rivedere Kerem. Mujgan lo insegue, implorandolo tra le lacrime di non separarla dal bambino, ma lui la respinge e sale in macchina. Mujgan, in un ultimo tentativo, lo supplica di fermarsi, ma lui parte e la lascia a terra. Così la vediamo, scalza e completamente bagnata, piangere con il volto rivolto verso il basso. Tuttavia, mentre Yilmaz guarda nello specchietto retrovisore, una compassione lo pervade nei confronti di Mujgan. Decide di fare un passo indietro e le concede di salire in macchina. Così Mujgan sale a bordo e cerca di raggiungere il figlio, ma Yilmaz le urla di non toccarlo, mette in moto e parte. Come reagirà Demir alle parole appena ascoltate? Scrivete qui sotto, sì, voglio il video e mi preparerò per voi un nuovo video con il seguito. Con questo colpo di scena, si conclude quest'anteprima. Ci vediamo alla prossima volta, carichi di suspense ed emozioni. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace. Grazie. 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 Grazie.